Ci sono film in cui il 3D è un optional, potrebbe anche non esserci e non cambierebbe nulla o quasi. Ce ne sono altri in cui è un effetto aggiunto per generare stupore oppure per attrarre pubblico con l'esca della meraviglia tecnologica. Benvenuti su Pandora, è un piacere avervi. Grazie. Però, sono enormi. Ci vorrà qualche ora per toglierli dal liquido, ma domani li potete portare in giro. Avatar di James Cameron non appartiene a nessuna di queste due categorie. Gli effetti speciali non sembrano tali e il 3D non è mai fino a se stesso. E non solo, dopo qualche minuto ci si dimentica di aver inforcato gli appositi occhialini e ci si immerge nel mondo di Pandora con una naturalezza e con una verosimiglianza che non hanno uguale. Per diventare Aronio, cacciatore, devi scegliere il tuo Ikran e lui deve scegliere te. Quando? Quando sarai pronto. Il fatto è che James Cameron ha pensato, progettato e realizzato il film fin dall'inizio, in una prospettiva tridimensionale. Le scene girate all'interno della foresta acquistano così una plasticità e una fisicità davvero impressionanti. Le esplosioni sembra che proiettino i loro effetti fin fuori lo schermo e i colori hanno una profondità e una brillantezza, a dir poco sorprendenti. Questo è il luogo dove le preghiere vengono ascoltate. E qualche volta esaudite. Avatar è un film insieme tradizionalissimo nell'impianto narrativo e rivoluzionario sul piano tecnologico. È fracassone visionario, irruente e malinconico, grossolano e nello stesso tempo raffinatissimo. I navi dicono che ogni persona nasce due volte. Niente in Avatar è mai solo quello che appare. Non solo i protagonisti hanno un corpo doppio, ma l'uso del 3D rende doppio anche il mondo in cui si muovono, combattono, muoiono. Tutto ribolle e si mescola sul pianeta Pandora, perché Cameron pensa sempre in grande, è audace e poetico e riesce nel miracolo, anche qui soprattutto grazie al 3D, di non farti sentire più solo uno spettatore, ma anche un attore. Protagonista, al pari degli altri, di ciò che avviene nel meraviglioso e terrificante mondo di Pandora. Cavalcate veloci quanto vi può portare il vento! Questa terra è nostra! L'anghello! L'anghello! Regalatevi un viaggio nel futuro, un viaggio in un'altra dimensione e non dimenticate, prima di partire, di inforcare gli occhialini. Regalatevi un viaggio in un'altra dimensione